E la prevenzione tanto promessa? È la domanda che pone il Movimento 5 Stelle di Fano dopo i fatti accaduti nel quartiere di Sant'Orso la sera di Halloween. Bastavano poche telecamere, hanno ribadito i consiglieri grillini, mentre adesso si chiede a chi ha visto o filmato di collaborare con le istituzioni. Giustissimo il senso civico, hanno proseguito, specie se ci sono evidenti lacune dell'amministrazione. Come spesso accade, a questa giunta ci si accorge solo a posteriori delle cose non fatte. Francesco, lei abita qua vicino, era in casa sabato notte? Sì, io abito proprio su questo campetto. Eravamo in casa, si era pomeriggio, abbiamo sentito grosso rumore, grossa confusione. Sono uscito anch'io per vedere, ci si è resi conto che c'erano bandi di ragazzini, non solo del quartiere, che mettevano a suo quadro l'intero quartiere, in modo particolare questa zona. Anzi, mi preme dare solidarietà agli abitanti del quartiere di Sant'Orso, di questo angolo in particolare, ed anche alle forze di polizia. Che sono stati oggetto di insulti, di lancio di raudi contro, da parte di queste orti di ragazzini che hanno compiuto dei veri e propri atti vandalici. Si poteva fare qualcosa in più per prevenire questa situazione? Sicuramente sì. Innanzitutto, occorre dire che c'è sicuramente un disagio giovanile che va affrontato come tematica a livello comunale in maniera molto seria. Ma si poteva prevenire? Sì. Perché, ripeto, io l'anno scorso, abitando qui, ho visto cosa è successo l'anno scorso, dove hanno rovinato una casetta in legno, che adesso, sembra, dice l'assessore Cucchierini, che quei ragazzi sono stati individuati, faranno un corso di recupero per ricostruirle, capire i danni che hanno fatto. Abbiamo fatto benissimo, però l'anno scorso abbiamo chiesto, mettiamo le telecamere, perché anche se non sono la soluzione del male, però sono un grosso disincentivo. Quindi bisogna affrontare questa tematica mettendo come prevenzione le telecamere, sicuramente, ma anche studiare quello che è il disagio giovanile che ha portato questi ragazzini a compiere dei veri e propri atti vandalici. È una città allo sbando, hanno invece commentato i consiglieri della Lega, che presenteranno delle emozioni in consiglio comunale. Fano, hanno scritto in un post su Facebook, non può essere lasciata all'abbandono, soprattutto in un momento come questo. Il sindaco, essendo responsabile della sicurezza cittadina, deve intervenire al più presto. Occorre un intervento immediato e non l'ennesimo appello inascoltato sui social per dare risposte e mettere in sicurezza la nostra città. Fermo restando che quello che è successo è sicuramente gradissimo e che i responsabili vanno individuati e puniti. La politica a Fano sta facendo un'operazione, a nostro avviso, molto grave, cioè quella di scaricare le proprie responsabilità sulle famiglie, quindi andandole a accusare di scarsa educazione e di scarsa sorveglianza. La politica si deve assumere le sue responsabilità in tema di sicurezza e controllo del territorio, che nello specifico riguardano due aspetti, secondo noi. Il primo è quello del controllo della videosorveglianza e delle telecamere. In questi anni gli investimenti fatti e anche l'ultima delibera di 300.000 euro sono per telecamere che servono a fare le multe, quindi a colpire i cittadini nelle proprie tasche. Dal secondo aspetto che riguarda la sicurezza è la gestione e i compiti affidati e l'organizzazione interna della Polizia Municipale di Fano, che è sicuramente sotto organico, ma che comunque al proprio interno ha praticamente più della metà del personale impiegato in compiti interni, mentre l'altra metà ha in compiti esterni, che considerando ferie, permessi, malattie e quant'altro riduce la presenza sul territorio a due o tre pattuglie al giorno, tenendo poi conto che nei mesi invernali il servizio praticamente finisce alle 7 di sera. Per cui è necessaria sicuramente come Lega Fano presenteremo delle emozioni, sia per l'impiego delle telecamere nella vera sorveglianza del territorio, sia per quello che riguarda la rivisitazione del corpo della Polizia Municipale.